Da sempre Cannes ha l'etichetta di uno dei festival più glamour del mondo, guardate del resto gli yacht ormeggiati qui nel porto. La verità è che Cannes invece è uno dei festival più impegnati del mondo, che guarda la realtà e ne racconta i suoi temi più scontanti, le contraddizioni, il lavoro che non c'è, il dramma dell'inquinamento. Pensate che in questa edizione, che è affollatissima di film, addirittura 24 in concorso, invece è meno affollata di pubblico, evidentemente causa Covid, il festival ha messo in piedi addirittura una sezione dedicata espressamente al tema dell'ambiente, alle mutazioni climatiche, che quindi vuol dire ovviamente anche il tema dei diritti, il tema dei nuovi poveri, il tema delle emigrazioni. Tra i tanti temi affrontati dal festival, anche quello del lavoro, è atteso il film ai prossimi giorni sui gilai gialli e domattina apre la canzone realizzatera, il film di Emanuele Carreva, dall'inchiesta di una giornalista belga che è andata a scoprire sotto copertura la realtà drammatica che vivono le donne delle pulizie sui ferry boat che attraversano la manica. Tanti poi anche i nomi internazionali che portano al festival il loro sguardo sul mondo, Oliver Stone che promette nuove rivelazioni sull'omicidio di JFK, Agfar Faradhi che racconta ancora una volta una storia ai margini di un uomo finito in carcere per debiti. E poi i film italiani, il primo fra tutti, il più atteso ovviamente è i tre piani di Nanni Moretti che passerà il 13 in concorso, l'unico italiano appunto in corsa per la Palma d'Oro. La canzone realizzatera poi è piena di film italiani, c'è il nuovo film di Giona Scarpignano a Chiara che torna a indagare il Sud, c'è il documentario Futura di Munzi, di Marcello e di Alice Rorfafer che è un'indagine attraverso l'Italia su cosa pensano i ragazzi del loro futuro. E poi Europa di Haider Rashid che è un regista italiano, lui è un regista di origini irachene che però è nato e ha vissuto a Firenze e che racconta appunto la Via Crucis, l'itinerario di un ragazzo iracheno che tenta di entrare nel vecchio continente attraverso la rutta balcanica. E poi Granchio di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis e Piccolo Corpo di Laura Samani, due film che quasi dialogano fra di loro e che ci fanno scoprire tre registi molto curiosi, molto diversi nel loro linguaggio dal cinema corrente. Del resto la Kenzen è quella sezione del festival dedicata alle scoperte attraverso le quali tanti autori italiani appunto sono passati e sono stati scoperti.